Miei Padawan, cacciatori d'Italia e appassionati della galassia lontana, bentornati! Io come sempre sono Emilio Valotti del canale YouTube Vem Bounce, qui per parlarvi di uno dei miei personaggi preferiti, il cacciatore d'Italia Cat Bane, apparso nel live action The Book of Boba Fett. E non sono qui per farlo in modo biografico, non sono qui per scavare la sua storia, sono qui piuttosto per consigliarvi 7 episodi da recuperare della serie animata The Clone Wars e The Bad Batch, perché voglio farlo? Perché diciamo che quando è arrivato il suo esordio in live action, quando è arrivato per l'appunto in The Book of Boba Fett, nonostante il design non mi abbia inizialmente convinto, il suo esordio è stata una vera bomba e la sua entrata in scena è stata meravigliosa, meno la sua uscita. Ma di questo parleremo e di questo è uno dei motivi che mi ha portato a dire ok, non mi è piaciuto come l'han trattato, non mi è piaciuto come uscito di scena, però ci sono 7 episodi, 7 episodi da consigliarvi, da vedere o da rivedere se già li avete visti, perché io voglio ricordare un personaggio che ho tanto amato, che tanto apprezzo. Ma prima di cominciare qualche informazione comunque su di lui ve la do. Cad Bane ad esempio, quando nasce? Nasce nel 62 BBY, ciò vuol dire che nel 22 BBY, quando scoppiano le guerre dei cloni, quindi in Star Wars episodio 2 l'attacco dei cloni, ha 40 anni. 40 anni e molti altri di esperienza sulle spalle, tant'è che con la morta di Django Fett diventa il cacciatore di taglie più abile, più freddo, letale, preciso e con più esperienza sulle spalle. Viene ricercato dai cartelli criminali e dallo stesso Darth Sidious, dai Sith. Tutti lo vogliono. E infatti, dov'è che appare la prima volta? Appare nella prima stagione di The Clone Wars, episodio 22, la crisi degli ostaggi, o più semplicemente in italiano tradotto come ostaggi. Questa è la prima volta che vediamo il personaggio, tuttavia vi ricordo che nella terza stagione c'è un prequel, quindi cronologicamente c'è un episodio che avviene prima. Però se voi guardate effettivamente in ordine di uscita, il primo episodio che arriva, Cad Bane, è questo. Ed è ispirato, come vediamo da subito, all'attore del buono, il brutto e il cattivo, Lee Van Cleef. E ciò, come qualcuno di voi già sa, è uno degli elementi che mi ha fatto appassionare da subito questo personaggio. Ed è lo stesso amore che io provo anche per Evolver Ocelot, della serie videogame Metal Gear, che per l'appunto è ispirato anch'esso all'attore. Nell'episodio Ostaggi, Bane e il suo gruppo di mercenari si infiltrano nel Senato della Repubblica e prendono in ostaggio i senatori. E il suo obiettivo è quello di barattare le vite dei politici con la liberazione di Zero Feat. E questa, oltre ad essere la prima apparizione del cacciatore, ragazzi, è bellissima da recuperare, perché notiamo per la prima volta la precisione, la freddezza e la bravura con cui Cad Bane mette in atto il suo piano. Il secondo episodio che invece vi consiglio è Colpo all'Holocron. In italiano, invece conosciuto col titolo più Harry Pottiano, tratto proprio da Harry Potter, La Camera dei Segreti. La Camera dei Segreti perché sarebbe l'Holocron, i volt in cui vengono tenuti gli Holocron. Infatti, Cad Bane, assunto questa volta dal Lord Sith Darth Sidious, deve infiltrarsi nel Tempio Jedi e recuperare nei volt segretissimi un prezioso Holocron. Al suo interno, infatti, sono presenti tutti i bambini sensibili alla forza che rappresentano una futura generazione dei Jedi. Noi nell'episodio non sappiamo bene che cosa voglia farne poi Darth Sidious e Palpatine di queste informazioni. Tuttavia, sapendo poi del progetto Arverest in era imperiale o di quello inquisitorio, potrebbe essere una sorta di incipit, di inizio. Ma perché vedere questo episodio? Perché Bane qui, ragazzi, compie l'impossibile. E mentre lo fa è dannatamente elegante, è dannatamente figo. Inoltre, il suo droide Todo 360 viene distrutto in questa missione e poi ricostruito in seguito. Il terzo consiglio, sempre parte della trilogia dell'Holocron, ovvero secondo episodio della trilogia dell'Holocron, è Cargo of Doom, letteralmente il trasporto maledetto. Ma è così anche in italiano? No. In italiano, ovviamente, si chiama I cristalli della memoria. E qui Cad Bane, dopo aver recuperato l'Holocron, deve trovare qualcuno che riesca ad aprirlo, che possa aprirlo tramite un kyber crystal. E questo è un maestro Jedi, Ropal. Il cacciatore di tagli e quindi lo cattura e inizia a torturarlo per raggiungere il suo obiettivo. E vediamo che è disposto a tutto, perfino a ucciderlo, mediante tortura, pur di ottenere queste informazioni. Non solo. Nell'episodio, Bane imprigiona con astuzia Ahsoka, Raga Skywalker, e alla fine, travestendosi da clone ferito, si finge morto per scappare dal campo di battaglia. Io credo che un'uscita di scena più epocale, più figa, ragazzi, non esista. Quarto consiglio, ultimo della teologia dell'Olocrone, i figli della Forza. Questa volta, dito l'italiano, è fedele, è pari pari. Quindi, fintosi un clone ferito e fuggito dal campo di battaglia, Cad Bane ha trovato i bambini sensibili alla Forza presenti all'interno dell'Olocrone. Tuttavia, poi scoperto dai Jedi, viene arrestato. Seguirà di certo un'altra fuga elegante, ma questo non è il motivo per cui dovete guardare l'episodio. Dovete vedere l'episodio terzo della seconda stagione e terzo della trilogia dell'Olocrone per un solo e unico motivo. Abbiamo tre Jedi, Obi-Wan, Anakin Skywalker e Mace Windu. Questi tre Jedi, che usano la forza per interrogare Cad Bane, e lui, attraverso la sua grande forza di volontà, riesce a resistere più del dovuto, più del previsto. E non è male per un cacciatore di taglie non sensibile alla forza. È elemento quindi da non sottovalutare, da vedere e rivedere più volte. Il quinto consiglio, ultimo, della serie animata The Clone Wars è Caccia Zero, episodio 9 della terza stagione, il mio preferito in assoluto riguardo il personaggio. Non solo qui appare per la prima volta Queen Lavos nella serie animata, ma vedere Cad Bane, che tiene testa sia Queen Lavos che Obi-Wan Kenobi, in uno scontro tra l'altro con le spade laser, ma pura ecstasi. Pensate che addirittura ne impugna una, Cad Bane con una spada laser in mano. Io devo davvero spiegarvi perché è il mio episodio preferito. Non credo. E prima di andare avanti, ragazzi, voglio parlarvi dello sponsor di oggi, ovvero Soft Shark. Hai paura che Cad Bane venga e rubi i tuoi dati? Non fare l'errore commesso dai Jedi. Usa Soft Shark, il VPN che protegge la tua identità online tramite la criptografia. Non solo, oltre a proteggere le tue informazioni dall'oscurità della rete, permette con un semplice click di connettersi a oltre 3.000 server in 65 paesi diversi. Quindi se c'è un'offerta da qualche altra parte, una promozione, puoi cambiare l'IP in modo facile facile e accedervi anche tu. È facile, ragazzi, è facilissimo perché anche un boomer come me ce l'ha fatta, quindi sicuramente voi saprete fare altrettanto e non solo da sicurezza perché, ragazzi, garantisce sicurezza su tutto. Con un solo abbonamento potete scaricarlo su PC, tablet, telefono, avere una protezione a 360 gradi, parlando per l'appunto di Todo 360, il droide fedelissimo di Cad Bane. Ma che altro? Guardate i prezzi, sono concorrenziali, non c'è nessun altro VPN che vi dia così tanto a un prezzo così modico. Per attivare l'offerta il mio codice sconto è caporosso. Avrete l'83% di sconto e tre mesi gratuiti. Quindi correte, surfshark, codice sconto, caporosso. Che andiamo avanti effettivamente con gli ultimi due episodi della lista. questa volta della serie animata The Bad Batch stagione 1 episodi 8 e 9 riunione e la taglia perduta. Perché mi piacciono questi due episodi? Poiché a seguito di quelli tagliati dell'arco narrativo tagliato con Boba Fett che avrebbe compreso quattro episodi, e qui finalmente Cad Bane torna nell'ira imperiale e lo fa in modo epico. Vuoi che fosse l'attesa, vuoi che fosse dieci anni che non tornava sullo schermo, vuoi la musica che lo accompagna o semplicemente il duello con Hunter ispirato poi a quello con Boba Fett. Beh, tutto questo mix ha reso la sua apparizione unica e meravigliosa. Non solo, nell'episodio successivo la taglia perduta, Bane mostra la sua abilità in un incredibile scontro con la cacciatrice di taglie Fennec Shed, cosa che mi fa ben sperare in un ritorno del personaggio anche nella seconda stagione della serie animata The Bad Batch. Certo, la sua chiusura e in me l'abbiamo vista in The Book of Boba Fett non è stata il massimo. Ho molto da ridire e l'ho ridetto in altri video. Ma per concludere in molti mi chiedete a riguardo quanti anni ha Kat Bane nella serie live action arrivato su Tatooine? La risposta ragazzi è 71 anni e se ci pensiamo sono pochi i cacciatori di taglia in Star Wars ad arrivare a quell'età. Quindi tanto di cappello al cacciatore di taglia con il cappello. 71 anni portati con eleganza, grazia e tanto stile. Io come sempre sono Emilio Valotti del canale YouTube The Unbounce grazie per avermi seguito e ricordatevi ragazzi Surfshark codice sconto caporosso 83% di sconto 3 mesi gratuiti. Che la forza sia con tutti voi. e che la forza